Cari amici italiani, amiche italiane, benvenuti alla pagina di Tourism Ireland. Un saluto a tutti voi e a tutti coloro che seguono il turismo irlandese sui social network e che sono interessati all'Irlanda. Un caro saluto da parte mia, io sono Andrea e ho il piacere di lavorare presso l'ufficio visite del Trinity College che oltre ad essere una università straordinaria, una delle migliori al mondo, è sicuramente un posto di interesse da visitare. Fondato nel 1592, il Trinity College è il college più antico d'Irlanda, è uno dei più antichi d'Europa, ma è un posto esclusivo da visitare perché contiene e custodisce alcuni tesori come quelli che andremo a vedere attraverso questo virtual tour, il tesoro del libro di Kells e il tesoro dell'antica libreria. Entrambi custoditi in questo edificio del XVII secolo, entrambi visitabili attraverso l'acquisto di un solo biglietto. Iniziamo con il libro di Kells che qui è custodito. Pensate che all'interno di questo edificio, visitato da un milione di persone nel 2019, 70.000 italiani, è custodito un libro straordinario. Un libro di 1200 anni. Il libro di Kells. Ma che cos'è il libro di Kells? Il libro di Kells è il Vangelo di Marco, di Matteo, di Luca e di Giovanni, scritto da monaci irlandesi. Un Vangelo in latino che rappresenta il manoscritto medievale più importante al mondo. È un libro che ha una storia particolare e unica che vi vado a raccontare brevemente. Il libro è stato creato nell'Ottocento presso l'isola di Aiona, un'isola situata al nord della Scozia. Fondamentalmente questo libro era stato creato da monaci irlandesi non tanto per essere letto, ma per essere esposto durante le celebrazioni eucaristiche, perché ha delle pagine straordinarie. Poi, alcuni decenni dopo che il libro è stato realizzato, qualcosa avviene in Scozia. I vichinghi arrivano e distruggono tutto ciò che trovano davanti. I monaci, per aver salva la propria vita, devono dire addio all'isola scozzise, lasciando così l'isola, trovando rifugio a Kells, una cittadina che si trova a 45 minuti di macchina da Dublino, che ha custodito il libro per oltre 600 anni. Per oltre 600 anni questo libro è stato a Kells, nei pressi di Dublino, custodito gelosamente dai monaci, nonostante alcuni incide, come i vari incendi che colpirono la cittadina di Kells. Non una, non due, ma tre volte l'abbazia fu colpita da incendi, ma nemmeno una pagina del libro fu fortunatamente toccata. O come l'anno 1007, in cui il libro fu trafugato dalla sacrestia della stessa chiesa di Kells. Miracolosamente il libro sarà ritrovato poi alcuni mesi nel giardino della stessa chiesa. Probabilmente i ladri non erano tanto interessati nel libro quanto nella custodia d'oro, che non sarà mai più ritrovata. Il libro quindi resta a Kells ed è chiamato così perché Kells è il posto che lo ha ospitato per tanti tanti anni, fino al 1658, anno in cui Cromwell, rivoluzionario, giunge in Irlanda scatenando una guerra civile, Cromwell l'inglese, che determina la rivoluzione civile in Irlanda scatenata dal Parlamento inglese. Siccome alcune delle milizie inglesi si trovavano nei pressi di Kells, i monaci decisero che Kells non era più la casa del libro e donarono lo stesso prima al vescovo di Meath e successivamente il libro fu donato alla città di Dublino. Dalla città di Dublino poi il libro fu donato alla straordinaria Università del Trinity College, dove Udite Udite è custodito dal 1661. Il libro non ha mai lasciato questo posto, eccezione fatta dell'anno 2000, quando è stato inviato in Australia per celebrare la comunità irlandese nelle stesse città australiane. Il libro è straordinario non soltanto per la storia, ma anche per i materiali. Stiamo parlando di un libro fatto da zero, i cui colori sono così vividi che sembra davvero difficile pensare che questo libro abbia 1200 anni. In qualche modo i colori sono stati estrapolati da piante, come è il caso del blu, che è stato estrapolato dalla pianta di Wood, una pianta che cresce in Scossia, ed ha dei colori così vividi che lo stesso colore è stato utilizzato da Mel Gibson nel tingere le facce di blu degli attori nel celebre film Braveheart. O come il colore dorato, che addirittura ha un pigmento il cui risultato è una commistione da minerali preziosi e addirittura elementi di arsenico, quindi anche abbastanza pericolosi. Stiamo parlando di un libro fatto da zero, le pagine del libro sono state estrapolate in qualche modo dalla pelle di vitello, sono di pelle di vitello. Qualcosa come 85 vitelli sono stati sacrificati per realizzare questo libro straordinario. E sulle pagine del libro di Kels vi sono dei simboli e simbolismi che ancora oggi non sono stati rivelati. Vi sono dei professori universitari che potrebbero parlare di una sola pagina per ore e ore, come ad esempio la pagina più enigmatica del libro di Kels, del Vangelo di Kels, del Nuovo Testamento, la pagina di Kiro Page. Eccola qui. Attraverso questa pagina alla mia sinistra si cerca di spiegare il fenomeno, il mistero della reincarnazione del figlio di Dio, di Gesù, che nasce come uomo, che vive come uomo, che muore come uomo e che risorge come Dio. E lo si fa sovrapponendo le prime tre lettere del nome Christ in greco, la cosiddetta Cairo Page. Le stesse lettere sono state utilizzate da Costantino il Grande quando ha determinato l'inizio dell'impero romano cristiano. È davvero difficile trovare una pagina del libro di Kels in cui vi è un santo disegnato esplicitamente, come ad esempio questa pagina qui che è unica, la pagina di San Giovanni. San Giovanni che è in qualche modo terrorizzato perché ha assistito alla crocifissione di Gesù. Ma perché non ci sono figure chiare o esplicite di santi nel libro di Kels? Sebbene stiamo parlando di un Vangelo. Fondamentalmente per due motivi. Il primo è che in Europa, nel Medioevo, e soprattutto quando era stato creato il libro di Kels, soprattutto nel nord Europa, non vi era stata una totale conversione al cristianismo. Il secondo motivo è perché, in qualche modo, disegnare una pagina esplicita di un santo poteva andare contro al secondo comandamento, non menzionare, in questo caso non disegnare, il nome di Dio in vano. Dopo questa breve discrezione ci troviamo proprio qui, al stanza del tesoro, Treasury Room, dove è custodito il libro di Kels. Oggi non andremo a vedere il libro di Kels, non lo andremo a filmare. Così come voi, allorché veniate, non potrete vedere il libro di Kels attraverso la camera. Potete solo vederlo attraverso i vostri occhi. Perché il libro di Kels ha 1200 anni, e una immagine, un flash, una videocamera potrebbe danneggiare le pagine del libro. Quindi avete l'opportunità di vederlo digitalmente, ma non attraverso questo videotour. E sicuramente avrete l'opportunità di vederlo attraverso i vostri occhi. Un motivo in più per venire qui e vedere il libro di Kels, che è qui custodito in questa sala. E ora i tesori non sono finiti qui, perché come dicono tante guide turisti che vengono a visitarci, si viene per il libro di Kels e si ritorna per l'antica libreria. Andiamo a vedere quest'altro tesoro qui custodito. Ed eccoci qui. Ci troviamo al secondo piano della esibizione dedicata al libro di Kels e all'antica libreria. Salutati dallo stemma reale della fondatrice del Trinity College, Sua Maestà Elisabetta I nel 1592, entriamo in questa meravigliosa libreria, chiamata Antica Libreria, chiamata Sala Lunga, perché è la libreria più lunga d'Europa con i suoi 65 metri di lunghezza, chiamata anche Cattedrale dei Libri, perché custodisce dei veri e propri tesori. Oltre 200.000 libri sono qui custoditi in questa antica libreria. A me piace chiamarla attraverso un brano di Morricone, L'Estasi di Dio, perché in qualche modo, a prescindere dal credo religioso che si professi, è bello pensare che Dio abbia ispirato i due architetti, Wud van den Deen, nel 1860, nel creare questa straordinaria Cattedrale dei Libri, che come abbiamo detto custodisce 200.000 volumi. I libri sono classificati attraverso un sistema di peso. I libri più pesanti sono collocati in basso, i libri più leggeri sono collocati in alto, all'interno di ogni sezione. Come potete vedere, ogni sezione è dedicata a dei grandi benefattori del Trinity College, o a delle persone che hanno fatto grande la storia del Trinity College, come Mary Pollard, o come, ad esempio, altre tante persone che hanno dedicato la vita allo stesso Trinity. E colgo l'occasione per salutare la nostra direttrice, Anne-Marie Diffley, che è una delle persone straordinarie che ha dedicato la vita e sta dedicando la vita al Trinity College. Come potete vedere, questa libreria è suddivisa in due sezioni, quindi ha due piani. Entrambi i piani sono collegati attraverso delle bellissime scale a chiocciola che possiamo trovare qui, all'inizio di ogni libreria. Una scala molto particolare, molto interessante, come tutta la libreria. Questa libreria non è soltanto un pezzo di museo. Attenzione, è una libreria attiva. Delle volte si possono vedere professori, ricercatori, universitari, cultori della materia che vengono qui a studiare su dei libri antichi 400, 500, 300, 200 anni. A una condizione, a patto che non portino i propri libri al di fuori della stessa libreria. È davvero unico l'odore che si sente ogni qualvolta si visita questa libreria. Un odore simile a quello della mandorla. Qui non c'è nessuna pianta di mandorla in Irlanda, fuori dalla libreria o all'interno della stessa. È solo che, in qualche modo, il libro è così antico che emette fondamentalmente un odore che è simile a quello delle piante di mandorle. Questa libreria custodisce dei tesori straordinari, come ad esempio, e questo è il caso, la proclamazione di indipendenza del popolo irlandese del 1916, nominata in qualche modo come la Costituzione de facto che dà il dio all'indipendenza del popolo irlandese che sarà raggiunta anni dopo. Una copia di questa rivolta che è iniziata nel 1916 è custodita qui, all'interno del Trinity College. Così come potete vedere, oltre ai libri ci sono i cari angeli custodi, io li chiamo, i guardiani della libreria, i nostri busti. Abbiamo qualcosa come 48 busti qui che proteggono la libreria. Ci sono busti, ad esempio, anche che ci ricordano l'Italia, il busto di Cicerone qui. Ogni busto potrebbe parlarvi di una storia che durerebbe ore e ore e ore, ma siccome questo virtual tour, diciamo, dovrebbe durare non più di 20 minuti, vi parlo della storia di due busti che hanno fatto grande il Trinity College nel mondo. Prima però voglio dirvi che, purtroppo, come potete ben vedere, i busti sono solo maschili, non ci sono busti femminili, perché fino al 1900, sfortunatamente, al Trinity College, così come in tutta Europa, alle donne non era consentito frequentare l'università. E per diritto riflesso diciamo che in qualche modo non vi erano busti celebrativi il gentil sesso. Tuttavia, dal 2023 al 2026, saranno installati 4-5 busti femminili, come ad esempio quello di Rosalind Franklin, straordinaria scienziata, che ha realizzato la struttura del DNA, piuttosto che Mrs. Lady Gregory, che è stata la fondatrice del grande Abitia Terra a Dublino. Dicevamo, parliamo di due busti che sono qui, che hanno fatto grande la storia del Trinity College, che sono, in qualche modo, anche i miei favoriti. Come il busto di Jonathan Swift, Dean Swift, lui ha studiato al Trinity College, è stato Dean presso la Cattedrale di San Patrizio, che vi invito a visitare, straordinariamente bella, sarà ricordato alla storia perché è stato l'autore del libro I viaggi di Gulliver, uno dei libri per bambini più belli al mondo, che ha ispirato diversi film e che continua a ispirare la creatività di tanti e tanti fanciulli in tutto il mondo. Andiamo a vedere ora un altro busto che ha una storia straordinaria e nel frattempo potete ammirare tutti i libri che sono catalogati alla perfezione. Un'altra notizia importante è che da 2023 al 2026 questa libreria e l'esibizione del libro di Kels saranno entrambe chiuse perché ci sarà una opera di restauro che durerà, udite e udite, qualcosa come quattro anni, anche per creare una nuova esibizione combinata al processo di digitalizzazione. Parlavamo, insomma, di un altro busto che andremo ad ammirare. È il busto del professor Hamilton che si trova qui alla fine della galleria del Trinity College. Professore straordinario di matematica, di fisica, di astronomia che ha insegnato al Trinity College nel corso del XIX secolo. Sarà ricordato alla storia per aver creato le fantastiche teorie qualtristiche che in qualche modo hanno influenzato gli americani a raggiungere la Luna, a disegnare la traiettoria per raggiungere la Luna. Le sue teorie, quelle del professor Hamilton, sono state così importanti che nel 2006, in maniera del tutto privata, un certo Armstrong, capitano della truppa che ha raggiunto la Luna, è venuto qui a ringraziare personalmente il professor Hamilton, dicendo grazie a questo busto. E culminiamo il nostro tour con una copia facsimile del libro di Kels che è stato realizzato nel 2011 in Svizzera, ma soprattutto culminiamo il nostro tour ammirando la straordinaria Brian Boru Arp. 500 anni ha questa arpa ed è così straordinaria perché questa rappresenta il logo dell'Irlanda, l'emblema dell'Irlanda. L'Irlanda è l'unica nazione al mondo il cui emblema è uno strumento musicale. Nel 1960 è stata inviata presso il British Museum per essere conservata e ristrutturata e poi ha fatto ritorno qui. Nel 2011, vi racconto anche questo aneddoto, come anche segno di riappacificazione, Un facsimile della Brian Boru Harp è stato suonato da sua maestà regina Elisabetta II nella sua visita al Trinity College. È un'arpa che ha 500 anni ed è dedicata al guerriero che ha cacciato via i vichinghi dall'Irlanda nell'anno 1014. Gli stessi vichinghi che poi hanno causato, fortunatamente io direi, che i monaci lasciassero l'isola di Lerona, venissero qui e portassero il libro di Kels che ha generato tutto questo spettacolo. Non mi resta altro che dirvi grazie, non mi resta altro che invitarvi a visitarci. Per qualsiasi cosa, qualsiasi informazione, potete inviare un'email cliccando a questo link piuttosto che prenotare la vostra visita cliccando allo stesso link. Ed eccoci qui. Siamo giunti al termine di questa straordinaria visita. Mi trovo all'esterno. Lì è l'ingresso dedicato al libro di Kels e soprattutto all'antica libreria. Due informazioni utilissime. La prima è che se volete, potete acquistare qualsiasi prodotto dedicato al libro di Kels e all'antica libreria cliccando questo link. E soprattutto il libro di Kels e l'antica libreria non sono gli unici posti da visitare. Il Trinity College offre dei campus tour davvero interessanti che potete visitare cliccando al seguente link. Prenotatevi in fretta perché i posti sono limitati per tutte le attrazioni. Non mi resta altro che dirvi grazie, salutare l'Italia, invitarvi a visitare l'Irlanda, la bellezza del Trinity College e tutti i tesori adesso connessi. Grazie ancora. Una buona giornata a tutti voi di Andrea.